8 marzo, festa delle donne. Questa canzone è nata mezz'ora fa, la sto registrando adesso e per cui è un regalo, la pubblicherò stanotte su Spotify e dura 30 secondi ed è per le donne. 8 marzo. Una donna cos'è? Il coraggio è saper osservare in silenzio, fino a quando arriva quel giorno che dice basta e poi non c'è verso, perché ormai ha deciso e la vedi da un vetro non tornare più indietro. E zitto chi mena, e zitto chi tocca, senza permesso. Una donna vuole sempre l'amore dopo il sesso.